ma senz'altro sarà sarà una bellissima partita è normale che ci siamo incontrati tre giorni fa sarà un po strano ma insomma una situazione che sapevamo dobbiamo essere bravi sapendo che è una partita diversa dal campionato perché insomma ci sarà andata ritorno quindi una sfida che si che si deciderà in 180 minuti ma noi ci teniamo tanto insomma inutile nascondere insomma abbiamo fatto due turni col cittadale della fiorentina che non erano semplici li abbiamo passati adesso siamo siamo in semifinale sappiamo che l'obiettivo è lì a portata di mano fermo restando che sappiamo che giochiamo contro una grandissima squadra che farà di tutto anche loro per arrivare in finale nell'arco della stagione ho sempre cercato di alternare tutti i giocatori domani sicuramente ci saranno dei cambi ma cercherò di fare la formazione migliore che domani possa darmi delle garanzie in una partita importante come quella che sarà domani sera a San Siro